Angelina Jolie Angelina Jolie, se sono ancora viva è solo grazie ai miei figli Una donna in carriera e una madre di famiglia, Angelina Jolie ha dimostrato al mondo come si è possibile conciliare il lavoro con gli affetti. Dopo la difficile separazione da Brad Pitt, avvenuta come un fulmine a ciel sereno, la star di Hollywood ha vissuto un momento di grande difficoltà emotiva, lamore per i suoi figli però le ha impedito di lasciarsi andare allo sconforto e di intraprendere un nuovo percorso di rinascita. Oggi la Jolie appare più bella che mai, impegnata in nuovi progetti professionali, e sempre in compagnia dei suoi adorati ragazzi. Angelina Jolie cuore di mamma. La separazione da Brad Pitt. Dopo più di 12 anni di relazione, ha sconvolto tutto il mondo, Angelina e Brad erano considerati la coppia più bella di sempre, capace di dimostrare al mondo come il lieto fine esista davvero. Invece qualcosa si è frantumato, probabilmente per sempre, e ora i due ex coniugi conducono vite separate. Per Angelina Jolie non è stato facile abituarsi ad essere una mamma single, in più occasioni pubbliche ha ammesso di sentire molta nostalgia del suo matrimonio, ma di essere anche certa di aver fatto la scelta giusta nel mettere un punto definitivo alla sua relazione. Durante quest'ultimo e delicato anno, la bellissima star di Hollywood ha deciso di farsi forza per l'amore dei suoi figli, i suoi ragazzi l'hanno sostenuta in ogni momento, dimostrandole un affetto incondizionato. Lei stessa, consapevole del momento difficile che hanno dovuto sopportare in seguito alla separazione dei loro genitori, ha scelto di mettere da parte i suoi sentimenti di donna delusa e sofferente e di concentrarsi solo esclusivamente sul benessere dei suoi sei ragazzi. Una nuova casa e un nuovo inizio, oggi, dopo molte difficoltà e peripezie, Angelina e i suoi ragazzi stanno affrontando un percorso di rinascita straordinario, forti del loro amore. Angelina e la sua carriera. Durante la separazione da Brad, Angelina ha rallentato in misura esponenziale i suoi impegni lavorativi, desiderosa di dedicarsi solo alla sua famiglia. La star di Hollywood ha sempre dimostrato un affetto straordinario per i suoi ragazzi, essendo sempre pronta a difenderli e sostenerli in ogni loro scelta. Proprio per cercare di riscostruire la loro serenità, pare che l'attrice abbia deciso di tendere una mano verso il suo ex marito, parlando di perdono, l'attrice non vuole farsi prendere da sentimenti negativi come l'odio e la rabbia, ma cercare di superare gli errori passati per costruire un rapporto più sereno con Pete. . Ma ha preso in mano la situazione, uscendone ancora più forte di prima, tutto il pubblico è dalla sua parte, sempre pronto a fare il tifo per lei. . . . . . . . .